Ma noi stiamo continuando a combattere quella che è una battaglia per la vita. Siamo in una condizione che denunciamo da anni e che diventa di anno in anno più grave. Diventa una condizione diciamo drammatica nel senso che non è consentita la sopravvivenza se non si interviene sulle regole del patto. Perché? Noi siamo una regione virtuosa dal punto di vista della cassa. La regione Puglia è paragonabile a diverse regioni del nord. Ma la differenza tra la regione Puglia e le regioni del nord è che abbiamo risorse straordinarie da investire nel cofinanziamento della spesa comunitaria. Cioè se noi non mettiamo tanti 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 soldi come cofinanziamento si blocca la spesa comunitaria e perdiamo queste risorse fondamentali. Ma ci viene impedito sostanzialmente di poter adempiere al nostro dovere di spendere tutto quello che ci dà l'Europa. E veniamo messi nella condizione di essere letteralmente strangolati dal patto di stabilità. Allora queste regole non hanno nulla di economico, sono soltanto pura ideologia, sono demenzialità ideologica che va rapidamente corretta. Io credo che l'urlo di dolore della regione Puglia che ha soldi che non può spendere, che ha tanti soldi che non può spendere, è oggi meritevole di una risposta definitiva. Grazie. Grazie.